Stop agli allenamenti, il covid ferma la Virtus Francavilla, gli esiti dei tamponi molecolari arrivati nella serata di ieri hanno confermato di fatto quanto è emerso tramite gli antigenici di lunedì mattina 5 casi di positività al coronavirus che si sommano ai due verificatesi nel periodo della sosta natalizia e presso le rispettive residenze. Dunque il totale parla di 7 contagiati prontamente isolati secondo le normative vigenti dal club Biancazzurro e dopo aver parlato con l'ASL di Brindisi la società ha ritenuto opportuno sospendere gli allenamenti fino ai prossimi test che si svolgeranno nel rispetto del protocollo sanitario il prossimo 2 gennaio. È la prima volta che la Virtus Francavilla viene colpita così pesantemente dal covid. Nella scorsa stagione era risultato positivo basket per un breve periodo, oggi addirittura 7 del gruppo squadra a testimonianza di quanto questo maledetto virus addetta dei virologi sia tornato a correre velocemente.